Venerdì 30 ottobre, San Marcello di Tangeri. È il 304esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 62 al termine. Il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 17.01. La luna si leva alle 16.55 e tramonta alle 5.15. Nasce a piove di sacco lo storico Arrigo Caterino Davila. La giovinezza trascorsa la corte francese, come paggio della regina Caterina, gli sarà di grande esperienza per scrivere la sua istoria delle guerre civili di Francia. Svolgerà anche varie ambascerie al servizio della Repubblica di Venezia e a Venezia morirà nel 1631 assassinato da un suo domestico. Le previsioni per domani. Cielo sereno, poco nuvoloso. Foschie, locali nebbie e in pianure nelle valli fino al primo mattino e a partire dal tramonto per lo più indiradamento diurno. Per le temperature minime prevarrà un leggero aumento, specie in montagna, massime in aumento sulle zone montane e stazionario in leggero calo su quelle pianeggianti.